Questo è un video per vedere come funziona l'applicazione per la Diamante 2.2 Per primo bisogna cliccare sulla icona della Diamante Si apre la schermata per la sicurezza, quindi non mettersi davanti alla macchina, non infilare oggetti Questa è l'interfaccia che si apre per la connessione Qua fa vedere praticamente il livello della batteria che è il 72% E che la macchina è connessa con Connected Dopodiché bisogna andare nel menu in alto a sinistra nella striscia verde dove c'è scritto Connection Si apre questa interfaccia, bisogna cliccare su Programs E qua si comincia già a regolare la macchina Schiacciando Preset e poi dopo dove c'è scritto Mode Fixed Fixed vuol dire il punto fisso nel campo Schiacciando su Fixed si apre un altro menu Con tutte le funzioni per velocizzare l'impostazione della macchina Quindi il punto fisso che è Fixed Poi c'è Alternate H Che vuol dire due punti alternati in orizzontale Alternate V Che è due punti alternati in lunghezza Alternate HIV Che vuol dire esattamente due punti nel campo dove si vuole Alternate H3, H6, H10 Che significa a distanza ravvicinata il destra e sinistra A media distanza e praticamente negli angoli del campo Dove si gioca Giocabile del singolo E quindi lontano Sempre i colpi alternati Poi ci sono le funzioni Random Random orizzontale significa impostare un raggio orizzontale E quindi inviare le palle casualmente Sempre alla stessa lunghezza Il Random verticale sempre nello stesso punto E con un raggio in lunghezza Poi ci sono Random HV Che significa tutte e due Quindi imposti un raggio in lunghezza E un raggio orizzontale Quindi le palle vengono inviate Sempre in maniera completamente casuale Ok, in questo caso mettiamo Alternate HV Sotto mode si vedrà scritto Alternate HV E da lì ogni regolazione si potrà impostare Quindi sotto speed che è la velocità Si clicca, si apre un sottomenu Uno imposta la velocità, in questo caso 95 km orari Orizzontale si imposta un parametro Che lo 0 è centrale Il meno è, guardando il giocatore, è a sinistra E quindi mettendo meno 6 Si andrà a giocare a un Destromani sul dritto A distanza intermedia E mettiamo il secondo colpo a più 10, più 11 Che significa tirare nell'angolo di destra Che un Destromani si gioca sul rovescio Ovviamente in verticale potrò scegliere Se il primo colpo, quindi il meno 6 E quindi sotto vertical Potrò tirare più lungo, più corto Quindi mettiamo in questo caso A lunghezza 23 E posizione orizzontale meno 6 Mentre l'altro colpo sarà più 11 E 16 di verticale Questo vuol dire che il secondo colpo Il più 11, 16 andrà più corto sul rovescio Mentre il dritto sarà lungo Poi si può andare a regolare l'effetto rotatore Quindi in 10 tacche di regolazione In effetto backspin Quindi lo slice Qua andrò a segnare Lasciamo un più 4 Che significa il topspin E anche quello in 10 livelli Di topspin L'ultima cosa da regolare è l'intervallo Quindi l'uscita della pallina È in frazioni di secondo Per regolarla esattamente su ogni colpo Per far sì che uno non aspetti troppo O gli arrivi troppo presto Imposta in frazioni di secondo L'uscita della pallina Si schiaccia conferma Si schiaccia play Che è il triangolino in alto a destra Blu Di fianco alla batteria Schiacciando play La macchina parte E comincia a inviare palline Per fermare il tutto Si schiaccia sul bottone quadrato Sempre in quella zona blu E la macchina si ferma Dopodiché si può entrare Nella zona custom Custom sono i programmi Schiacciando su custom Il bottone diventa verde Qua ci sono già Ci sono 10 schemi Da 16 colpi Ok Per andare a impostare Un nuovo schema Mettiamo Noi bisogna cliccare Su uno dei numeri Quindi noi andiamo A farne uno che è grigio E quindi che non è mai stato programmato Schiacciamo sul numero 6 Il numero 6 diventa rosso Dopodiché si va Per programmarlo Si va in settings Che è Quella Quell'icona Con le tre strisce bianche Sopra il numero 5 Si schiaccia Si apre questa interfaccia E qui possiamo aggiungere Il primo colpo Il primo colpo si può aggiungere Dai due più Che sono in alto Uno sulla barra verde E l'altro sulla barra nera Schiacciamo più E appare il primo colpo Questo è il primo colpo Dove possiamo andare A cambiare la velocità Ok mettiamo Mettiamo 90 km orari Lo spin Mettiamo 5 Orizzontale Lo mettiamo Diciamo sempre Nell'angolo di sinistra Chiamiamolo Quindi su un destromene Sul dritto Quindi mettiamolo A meno 11 In verticale Lasciamolo A 19 L'intervallo Facciamo una cosa Che sia giocabile 2.7 Dopodiché abbiamo il primo colpo Il primo colpo è già impostato Se schiacciamo ancora su più Appare un altro colpo Lasciamo le stesse impostazioni Anche se sono modificabili Perché Vi faccio vedere Che si potrebbe anche Modificare tra un colpo e l'altro Però questi parametri Non si può andare troppo Non ci può essere troppa differenza Tra un colpo e l'altro Perché la macchina potrebbe Non farcela in tempo E quindi Nei 2.7 Diciamo che In In Frenatura E quindi Per rallentare La macchina Ce la fa tranquillamente Anche in un secondo Invece per accelerare 30 km orari Potrebbe impiegarci Più di Più di 3 secondi E quindi Non ne vale la pena Non vale la pena Andarsi A impelagare In queste regolazioni Che Sono un po' troppo specifiche Quindi qua Sullo speed Lasciamo 90 km orari Lasciamo tutte le regolazioni Mettiamo Diciamo Un colpo In mezzo centrale Sempre Alla stessa lunghezza Oppure Possiamo giocarlo Anche più corto Quindi metteremo 16 sul verticale Lasciamo sempre L'intervallo Aggiungiamo un altro colpo Ed andremo a tirare Ancora un'altra volta Nell'angolo di sinistra Quindi metterò ancora 11 Aggiungo un altro colpo Ne aggiungo un altro Ok Cambiamo Adesso La linea Il colpo numero 3 Lo cambiamo E mettiamo Orizzontale più 10 Quindi vuol dire Che tirerò nell'altro angolo E quindi sul Sul rovescio Del giocatore Siamo al quinto colpo Si posso Si potranno aggiungere Fino a 16 colpi Quindi qua ne mettiamo 16 Che scorrono Ovviamente potrò andare In qualsiasi colpo Quindi mettiamo Andiamo nel colpo numero 7 Posso entrare Nell'interfaccia del verticale E metterlo più lungo Più corto Posso mettere Un orizzontale diverso Posso cambiare l'intervallo Posso insomma Cambiare qualsiasi cosa Vedete 2.7 Come avete visto Dal colpo numero 6 Dal colpo numero 7 Ci sarà un intervallo Di 2.4 Ovviamente Ogni colpo Può essere cancellato Basta prenderlo Buttarlo a destra A sinistra E i colpi diventano 15 Prendo il colpo numero 15 Lo sposto a sinistra E il colpo Sparisce Dopodiché Anche per cambiare Lo stesso schema Al quale uno si può adattare Si può prendere il colpo Adesso guardiamo Il numero 7 Lo sposto Di un colpo in su Oppure Di un 2 colpi in giù O di quanti colpi Desidero spostarlo Quindi il colpo numero 7 Andrà a finire al numero 13 Dopodiché Il Questa Questo schema Potrà essere inviato Una volta sola Quindi dopo 14 colpi In questo caso sono 14 Lo schema si ferma La macchina si ferma Una volta fatti Questi 14 colpi Oppure Si possono andare In continuazione In continuazione Bisogna schiacciare La freccetta Dove c'è scritto Loop La freccetta diventa Verde E quindi Lo stesso schema Verrà ripetuto All'infinito L'intervallo Tra Il colpo numero 14 Colpo 1 Quindi vuol dire Quando finisce Lo schema E rinizia È dettato Dall'intervallo Dell'ultimo colpo E quindi Il colpo numero 14 Se voglio fare una pausa Posso farmi una pausa Per cambiare giocatore Oppure per avere Un attimo di tregua Mettere 8 secondi E quindi Tra uno schema E l'altro Ci saranno Un'attesa Di 8 secondi Si tornerà Indietro Con la freccetta In alto a sinistra Sulla barra verde Si schiaccerà Conferma In questo caso Viene memorizzato Lo schema E schiacciando Play Quindi il triangolino Blu In alto a destra Di fianco alla batteria La macchina parte Queste sono un po' Le funzioni principali Della diamante 2.2 Grazie a tutti Grazie a tutti